Per fortuna le polveri sottili hanno le ore contate perché è in arrivo un'ondata di maltempo e allora sentiamo le previsioni dalla voce del nostro Marco Rabito. Una vasta circolazione depressionaria di matrice atlantica si avvicina al nostro territorio e darà origine a diverse piogge tra la giornata di giovedì e il fine settimana. Sarà soprattutto quella di venerdì la giornata con le piogge più diffuse e persistenti. Soprattutto tra la mattina e la prima parte del pomeriggio. Le nevicate cadranno soprattutto a partire dai 1400-1500 metri sulle nostre prealpi. Questa fase instabile determinerà anche la fine, sicuramente temporanea e forse definitiva, alle allerte per le polveri sottili. Nel corso del fine settimana il tempo rimarrà variabile con alternanza di periodi asciutti e nuove piogge che interesseranno in maniera sparsa e discontinua tutto il nostro territorio. Sulle zone montane la neve cadrà a quote più basse rispetto a venerdì. In qualche caso anche facendo la sua ricomparsa sui paesi della conca altopianese.